Sono un gioco a 4 lati, è veramente il gioco a 4 lati, non poter c'è di consul, non è un grande Se il gioco a 4 lati, sono veramente un gioco a 4 lati, sono veramente un gioco a 4 lati Sì degree, perché c'è una mus 쿠 recognise qua ercanan Oh, io credo vedo come fissetti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti